I pazienti risultati positivi in Campania nella giornata di giovedì sono stati 10 a fronte di 5.983 tamponi esaminati. Il totale complessivo quindi dei pazienti positivi in Campania è di 4.733 a fronte di 161.825 tamponi esaminati. Sono questi gli ultimi dati comunicati dall'unità di crisi della regione. Incredibile decisione da parte del Governo. È sconcertante che si sia solo immaginato di escludere le ex zone rosse, Vallo di Diano, area Ariano Irpino, dal fondo dedicato alle aree colpite gravemente dall'emergenza Covid. Chiediamo che si corregga immediatamente questa disposizione da parte del Governo. Lo afferma il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito alle ex zone rosse escluse dal fondo Covid. La vicenda sta suscitando forti reazioni in gran parte del mondo politico. L'esclusione riguarda anche le ex zone rosse del Veneto e ha visto la forte protesta del Governatore della regione Zaia. Per il capo dell'opposizione di centrodestra in Campania, Stefano Caldoro, si tratta di una follia. Sono gli ultimi in Italia ad aver avuto la possibilità di riaprire, ma l'hanno fatto presentandosi con una serie di interventi anche strutturali che le ha resi sicuri in linea con le indicazioni per arginare il contagio Covid-19. I ristoratori del lungomare di Napoli hanno riacceso forni per le pizze e riattivato le cucine, dando un segnale di ripartenza in un contesto difficile ma che vuole guardare al futuro con ottimismo. La riapertura è diventata un evento speciale nel corso del quale i ristoratori hanno voluto ricordare le vittime dell'epidemia. Con un lungo applauso. Oggi mi sembra il primo giorno di scuola. Noi siamo stati i primi ad aprire con l'asporto, i primi a chiudere, i primi ad aprire con l'asporto e oggi siamo già pronti. Quindi tavole a distanza, registri, temometri e sanificanti. Finalmente ripartiamo dopo tutta questa attesa del Covid-19 con la speranza che tutti i nostri clienti ci vengano a trovare presto. Ci devono stare vicino le istituzioni, dobbiamo spingere la gente a far capire che i ristoranti sono un luogo sicuro, dobbiamo aspettare che i turisti ritornino sicuramente, sempre questo con l'aiuto del governo, con prezzi più bassi, i voli più bassi, gli alberghi più bassi con costi contenuti perché la gente in questi tre mesi anche c'è un problema economico. Quindi dobbiamo essere tutti compatti e seri per cercare di risorgere. Anche lo storico caffè Cambrinus ha risollevato le saracinesche. Si riapre, non ne potevamo più. Finalmente torniamo anno zero, giorno zero. Si riparte con l'idea, con il proposito di riaprire per non chiudere più. Agenzie di viaggi, ludoteche, sale per eventi e feste, animazione. Tutto ciò che fa parte del comparto divertimento e turismo sembra essere stato dimenticato dal governo e dalla regione. Se una parte di Napoli festeggia la riapertura di bar e ristoranti, dall'altra parte ci sono tanti lavoratori che soffrono e che in protesta a Piazza del Plebiscito hanno voluto far sentire la propria voce. Il settore è in ginocchio ed i manifestanti chiedono di essere ascoltati per trovare delle soluzioni per far fronte a questa crisi. Ci sono delle direttive che lascerebbero intendere che dal 15 giugno potrebbe ripartire almeno una parte del comparto intrattenimento. Il discorso è che c'è poca chiarezza soprattutto, nel senso che ci sono delle linee guida, ora starebbe un attimino all'interpretazione anche personale di vari settori all'interno dell'intrattenimento per poi metterle in pratica perché si parla solo di campi estivi e di spettacoli ma in modo che poi va a tagliare fuori tutto il resto di un comparto più grande, quindi dagli eventi privati al ricevimento eccetera eccetera. Allora noi siamo proprio disperati anche perché non abbiamo avuto nessuna notizia da parte dello Stato né tantomeno dalla regione Campania, quindi chiediamo almeno di sapere quando potremmo ripartire, noi sale per eventi. Comunque i nostri eventi sono fatti da persone che si conoscono quindi se hanno permesso l'assemblamento di parenti e amici è possibile anche festeggiare perché lo stanno facendo in casa, quindi dateci l'opportunità di aprire nella massima sicurezza e di poter andare avanti con le nostre attività altrimenti tra qualche mese saremo proprio in ginocchio. La mia condizione è che ad oggi non sto lavorando e non ho neanche avuto il sussidio dei 600 euro per il Covid perché dopo 20 anni di turismo, quindi dal 1999, contratti registrati all'Inps, tasse pagate, nella domanda dove mi sono vista respinta, ho letto lei non è un operatore del turismo. Un arsenale è stato scoperto a Napoli dagli agenti del commissariato di polizia San Carlo Arena che hanno effettuato un controllo in via Largo d'Avellino in un deposito in uso a due uomini. I poliziotti giunti all'interno del locale hanno praticato un foro in una delle pareti che era stata da poco imbiancata ed hanno scoperto un intercapedine dove erano stati occultati un fucile Kalashnikov completo di caricatore, una pistola 44 Magnum, una pistola calibro 7,65 con matricola brasa, un fucile calibro 12 a canne mozze, una pistola calibro 6,35, tre caricatori vuoti, un paio di manette e 738 cartucce di diverso calibro. I due fratelli gemelli, entrambi 38enne napoletani, uno dei quali con precedenti penali, sono stati quindi arrestati per detenzione illegale di armi clandestine, munizionamento e ricettazione. 2.600 mascherine protettive per bambini sono state sequestrate dagli uomini del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che hanno scoperto nel corso di due distinti interventi oltre 60.000 articoli contraffatti. Un'operazione che secondo le fiamme gialle testimonia come sia iniziata una fase 2 anche per il mercato del falso. Il gruppo pronto impiego della finanza, partendo dal monitoraggio dei flussi commerciali in ripresa nella zona mercatale della Maddalena a Napoli, ha individuato nell'area industriale del quartiere Poggio Reale un 47enne di origini cinesi, che a bordo della propria auto era entrato in un'area adibita deposito container, iniziando a prelevare delle scatole da uno di essi. I successivi approfondimenti hanno permesso alle fiamme gialle di riscontrare che all'interno del deposito erano presenti altri otto container, tutti nella disponibilità dello stesso contenenti calzature con marchi contraffatti di note griff sportive, pronte per essere immesse sul mercato come falso d'autore. Al termine la merce è stata sottoposta a sequestro e il responsabile è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. Nel corso di un secondo intervento, questa volta a Mugnano di Napoli, gli stessi baschi verdi, durante un controllo in strada, hanno fermato un 38enne di melito risultato coinvolto in un traffico di prodotti contraffatti. La successiva perquisizione di un locale nella sua disponibilità ha permesso infatti di sequestrare 5.700 articoli con marchi contraffatti di noti personaggi per l'infanzia, nonché 2.600 mascherine pseudo protettive per bambini di scarsa qualità e potenzialmente dannose per la salute. Anche in questo caso il responsabile è stato denunciato penalmente per contraffazione e ricettazione. A sorpresa il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto visita al centro per l'impiego di Avellino, il cui ingresso nella notte è stato danneggiato dai gnoti che hanno piazzato e fatto esplodere una bomba carta. Il governatore ha voluto manifestare la preoccupazione di Palazzo Santa Lucia rispetto ad un episodio inquietante. Il blitz di De Luca è durato pochi minuti. Il presidente si è intrattenuto con i dipendenti ed ha promesso che riferirà l'accaduto al premier Conte. L'esplosione ha mandato in frantumi la porta di ingresso del centro per l'impiego. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco per delimitare la zona e procedere ai primi rilievi. Al momento non si conoscono i motivi del folle gesto. Importanti saranno le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza. Per fortuna a quell'ora le strade erano deserte e non si registrano feriti. Il segnale è brutto, preoccupante, pericoloso. Non è una cosa banale perché non è un petardo. Questa è una bomba vera e propria perché avevamo petri blindati che sono saltati. Quindi è evidente che è una cosa seria, che richiede una indagine seria e anche un'attività repressiva vera. Ma io sono venuto qui anche per dare la mia solidarietà ai lavoratori e ai centri per l'impiego che da mesi stanno facendo un lavoro straordinario. Prima per il concorso della regione Campania. Voi sapete che i primi 2.500 vincitori di concorso prenderanno lavoro, cominceranno la loro attività lavorativa fra giugno e luglio nei 240 comuni e presso le corti d'appello. Poi dopo per istruire le pratiche a cassa integrazione. Siamo sicuramente la regione all'avanguardia in Italia per la istruttoria delle pratiche di cassa integrazione. Ovviamente attendiamo che il governo invia altri 40 milioni di euro che mancano all'appello più di quello che hanno fatto i nostri dipendenti. Veramente è difficile immaginare di poter fare. Quindi un lavoro straordinario per il quale sono venuto a ringraziarli di persona. Per il resto mi sento il Presidente del Consiglio per sottolineare anche a lui la gravità di questo episodio. E per chiedergli, sapete che c'è un contenzioso fra regione Campania e Ministero dell'Economia, di sbloccare risorse appartenenti alla regione che sono bloccati dalla palude burocratica del Ministero dell'Economia. Proseguono i sequestri di dispositivi di protezione individuale contraffatti. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, sezione di Vallo della Lucania, durante una serie di controlli presso alcuni esercizi commerciali, ha sequestrato prodotti in vendita che non avevano le caratteristiche tecniche necessarie con certificazioni risultate false. Attraverso la documentazione contabile i finanzieri sono riusciti a risalire ai fornitori, risultati essere due società dell'Interland napoletano, presso le quali sono state eseguite una serie di perquisizioni. In tutto un sequestro di circa 18 mila tra mascherine e visiere protettive non a norma e la denuncia a carico di nove soggetti che dovranno rispondere di frode in commercio. Intanto anche a Napoli i carabinieri del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale, nell'ambito di un servizio di contrasto alla vendita di prodotti per la sanificazione non conformi alle norme sanitarie, hanno denunciato un 52enne della provincia partenopea per frode in commercio. Titolare di una rivendita di prodotti cosmetici, l'uomo aveva stoccato in magazzino, pronte per la commercializzazione, circa 8.500 confezioni di gel lavamani con etichette che ne saltavano le proprietà antibatteriche. Ma le confezioni, secondo i militari, contenevano del semplice sapone. Tra i materiali rinvenuti e poi sequestrati, anche due rotoli di etichette adesive da applicare ai flaconi con l'indicazione antibatterico naturale. Il valore commerciale dei prodotti sequestrati ammonta circa 20.000 euro. Il Tribunale di Napoli, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a sei anni di reclusione tre persone riconosciute e colpevoli di prostituzione minorile. Si tratta di un pensionato di 72 anni residenti a Roma e di due operai entrambi 52 anni residenti rispettivamente a Formia e Gaeta in provincia di Latina, che si recavano appositamente sul lungomare di Mondragone in provincia di Caserta per consumare atti sessuali a pagamento con dei minorenni nella loro auto o in ispiaggia. I tre vennero arrestati nell'agosto del 2019 e secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Mondragone e dei magistrati della quarta sezione della Procura della Repubblica di Napoli, i ragazzini di circa 15 anni, prevalentemente bulgari e nordafricani, provenienti da case famiglie della zona, si concedevano ai loro clienti per appena 5-10 euro, anche solo per una ricarica telefonica, una bottiglia di birra o un pacchetto di sigarette. Dopo l'annuncio della riapertura il 2 giugno del Parco Reale della Regia di Caserta e del Giardino Inglese, a cui farà seguito il 17 giugno anche quella degli appartamenti reali, è stata annunciata per la campagna la riapertura in due fasi anche degli scavi archeologici di Pompei. Si parte il 26 maggio con le prime due settimane in cui sarà consentita una passeggiata lungo le strade della città antica per tornare ad ammirare i luoghi più rappresentativi del sito e godere delle loro atmosfere uniche, secondo un percorso prestabilito su fasce orarie e con le necessarie misure di distanziamento previste dal Ministero della Salute. Dal 9 giugno seguirà una seconda fase, con due itinerari accessibili dagli ingressi di Porta Marina e Piazza Anfiteatro, con l'apertura di ulteriori spazi inediti e domus dotate di ingresso ed uscita separate e con il supporto della tecnologia per organizzare e monitorare i flussi. Il biglietto di ingresso in questa prima fase avrà un prezzo agevolato di 5 euro fino all'8 giugno e sarà acquistabile esclusivamente online sul sito www.ticketone.it. Gli orari di visita saranno dalle ore 9 alle ore 19 con ultimo ingresso alle 17.30 e con un giorno di chiusura settimanale prevista per il lunedì. La prenotazione sarà possibile anche nella stessa giornata fino ad esaurimento della disponibilità. Al momento dell'acquisto online il visitatore potrà scegliere la fascia oraria di ingresso, prevista ogni 15 minuti per un massimo di 40 persone per turno. Come per la regia di Caserta, l'abbonamento Pompei 365 sarà prorogato per il numero di giorni corrispondenti a quelli di chiusura connessi all'emergenza sanitaria. Da lunedì 25 maggio, salvo imprevedibili come improbabili diverse determinazioni regionali, si torna al mare sulle spiagge, con tutte le misure di precauzione previste ed imposte a livello nazionale dal Ministero della Salute. Prima precauzione fra tutte, il buonsenso, che pare sia disperso negli ultimi giorni nell'euforia collettiva del tutti fuori liberi. Come tutti gli anni anche quest'anno è stata pubblicata la lista delle bandiere blu in Italia, si tratta del riconoscimento conferito dalla Fondazione per l'Educazione Ambientale che decreta le migliori spiagge italiane selezionate sulla base della qualità delle acque e delle spiagge. Sono circa 195 le bandiere blu in Italia, ben 12 le località in più rispetto allo scorso anno. La Campania in questa lista si è classificata terza dopo la Liguria e la Toscana, con 19 località che si sono appunto aggiudicate la bandiera blu, 14 comuni in provincia di Salerno e 5 invece a Napoli. Tra le new entry della regione Campania c'è Vicoequense, ma la lista del mare blu d'occhi in Campania è molto lunga e quest'anno l'acqua sarà ancora più trasparente grazie e si fa per dire al Covid-19 che ha tenuto per oltre due mesi lontano quell'elemento troppo spesso inquinante che corrisponde all'irresponsabilità umana. Dopo l'apertura da parte del ministro Spadafore e la modifica del protocollo accettata dal CTS, il Consiglio federale ha deliberato la volontà di riprendere e di portare a termine i campionati di Serie A, B e Lega Pro, stop ai campionati di Serie D. L'obiettivo della FIGC è quello di completare sul campo i tornei e nel caso della Serie A senza ricorrere ai play-off e play-out che resteranno dunque una soluzione d'emergenza nel caso vengano a mancare i tempi tecnici per giocare le 12 giornate che mancano. La stagione 2019-2020 dovrebbe chiudersi ufficialmente il 31 agosto, ma i tornei dovranno essere conclusi entro il 20. Il tutto in attesa di una decisione definitiva da parte del Governo che arriverà il 28 maggio. In caso di nuova sospensione per l'emergenza coronavirus, il Consiglio FIGC rimodulerà il format dei campionati con brevi fasi di play-off e play-out. Se invece ci sarà un'interruzione definitiva, la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto delle organizzazioni in gironi e o del diverso numero di gare disputate dai club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni. In Serie A ad esempio non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite, ci sono ancora quattro gare da recuperare. Si terrebbe conto quindi della media punti come coefficienti correttivi. I play-off potrebbero essere a quattro con gara secca in tutto tre partite. Sarebbero salve così le squadre che vanno in Champions, più complesso per i play-out. Si potrebbe fare uno spareggio salvezza fra la diciannovesima e la diciottesima, l'ultima della classifica andrebbe direttamente in B. Oppure in B le ultime due e spareggio fra diciassettesima e diciottesima. Nessuna decisione invece al momento per il campionato di calcio femminile. Amici Trebimeteo, un saluto da Luca Pace. Nella giornata di sabato avremo ancora l'alta pressione che dominerà la scena sul Mediterraneo. Attenzione però perché nel corso della serata vedete questa perturbazione che porterà un generale aumento dell'instabilità sulle nostre regioni settentrionali con occasione per qualche isolato temporale o rovescio. Ma vediamo nel dettaglio la nuvolosità attesa appunto nella giornata di sabato. Prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. Anche al nord vedete nel corso della mattinata. Tuttavia proprio sulle regioni settentrionali ci attendiamo un generale peggioramento tra tardo, pomeriggio e sera con l'arrivo di fenomeni sparsi in serata a carattere di rovescio temporale. Vediamo quindi in definitiva la previsione per la giornata di sabato sull'Italia. Al centro-sud vedete prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque grazie alla presenza dell'alta pressione della Zorra e al nord invece attenzione. Dopo una giornata nel complesso stabile in serata ci attendiamo l'arrivo di rovesci anche a carattere temporalesco. Per quanto riguarda le temperature massime che localmente toccheranno punte di 28-29 gradi specie sulle regioni centro-settentrionali. Per questo aggiornamento è tutto. Grazie.